Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Easy Italian. Sono qui con la mia amica Letizia. Ciao a tutti, sono Letizia e oggi andremo a chiedere ai italiani cosa ne pensano della differenza tra italiani e tedeschi. Andiamo! Quali sono gli stereotipi che gli italiani hanno dei tedeschi? Dei tedeschi? Bella domanda! Talvolta sono più bravi di noi solo qualche volta a giocare al calcio. Qualche volta? Qualche volta, non sembra. Molto freddi? Ecco la differenza che serve di un tedesco, diciamo oddio quanto è freddo!